Panico e paura la scorsa notte a Portorotondo, dove la pioggia incessante ha lagato una villa presa in assalto dal fiume in piena. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Olbia per mettere gli occupanti in salvo. In generale, tutta Portorotondo è stata vittima del maltempo, specialmente la zona dell'anfiteatro e della piazzetta della Casbah. Danni considerevoli anche nella vicina Arzachena, dove la furia delle acque ha causato allargamenti nelle case del primo piano e negli scantinati. Le richieste di intervento dei vigili del fuoco sono durate tutta la notte e hanno richiesto l'aiuto della squadra di Olbia di Tempio fino all'alba. Ingenti i danni.